Partiamo dicendo una cosa, noi giocatori di ruolo come gruppo, come persone con una stessa passione, dovremmo essere contenti della possibile esistenza dei master a pagamento. Allora, per chi non lo sapesse, i master a pagamento sono una realtà che all'estero esiste già da un po' di tempo, ad esempio in America Wizard of the Coast sceglie direttamente alcuni master che poi faranno sessione qui per le quali i giocatori pagano 10-15 dollari all'ora e giocano appunto avendo questa esperienza. In Italia questa cosa ovviamente, come ogni cosa in Italia, è vista con cattivo occhio, ogni cosa che non sia sostanzialmente arare il terreno o piantare i semini è vista come una roba che non è degna di essere pagata, cioè pensiamo al destino che hanno avuto i poveri grafici, i poveri musicisti, ok? Tutta questa gente, spostiamo la luce, tutta questa gente esistente nel nostro mondo che per gli italiani non è degna di essere pagata il loro lavoro, vale meno di niente. Quindi per gli italiani ovviamente pagare una persona per fare un master di un gioco di ruolo, cioè per gestire una campagna, eccetera, eccetera, è una roba che di per sé non può esistere. Vediamo che invece noi che siamo all'interno dovremmo esserne contenti, perché dovremmo esserne contenti con alcune condizioni che vedremo dopo, ma intanto escludiamo da questo discorso alcune categorie di cui forse non avete mai pensato della possibile esistenza, che sono diciamo gente che fa master a pagamento ma con un fine diverso dall'intrattenimento, dal divertimento, cioè ad esempio sono un insegnante, esistono queste realtà, sono un insegnante di lingue e uso il gioco di ruolo all'interno del mio corso di lingue per far conversazione alla gente, anche quindi vengo pagato tecnicamente per fare il master, ma ovviamente sto in verità insegnando la conversazione inglese ad esempio, e quindi diciamo viene una cosa che viene già più largamente accettata, oppure sono un master all'interno di un'associazione che fa riabilitazione e rieducazione per giovani e adolescenti, e in quel caso, quindi all'interno di un contesto educativo, mi sembra più accettabile il fatto che magari dei genitori paghino 10 euro all'ora a questa persona per ottenere un certo numero di risultati all'interno appunto di un progetto educativo di più ampio respiro, quindi questi li escludiamo. Ce ne sono sicuramente molti altri, potrebbero essere i master che alle fiere vengono pagati, ipotizzo esistono, dalle aziende o comunque hanno un rimborso spese, un minimo di rimborso per proporre il loro gioco, in quel caso stanno facendo, diciamo, i dimostratori, i venditori, che hanno comunque un minimo compenso e non credo che nessuno abbia nulla da redire, perché questa cosa viene vista come un lavoro. Adesso entriamo invece nel discorso dei master che esistono ormai su Facebook o su Instagram vedete spesso degli annunci di questo tipo, chiedono dei soldi per far giocare un gruppo normale, per fare il lavoro di un master a cui tutti noi siamo abituati, né più né meno. E io stavo pensando, questa cosa di per sé non è un male nel momento in cui questa cosa ovviamente è regolata, ci sono delle leggi, delle tasse da pagare, eccetera, eccetera, non c'è un lavoro come un altro, che è un hobby, che si trasforma in un lavoro come un altro. È un po' come dire, non so, un musicista che gli piace suonare e inizia a suonare nei locali e viene pagato, ok? Attira della gente, ovviamente offre un servizio, i bar, i locali sono contenti perché la gente viene nel locale e beve e quindi vengono pagati per questo motivo. Ma che cosa ci deve offrire un master a pagamento per poter essere, diciamo, per potersi meritare questi soldi che noi andiamo a darli? E ho pensato ad alcuni punti che secondo me sono abbastanza indispensabili, perché partiamo dal presupposto che già i master, che lavorano gratuitamente, cioè tutti noi, solitamente, fanno un ottimo lavoro, cioè già un lavorone che porta via un sacco di tempo e quindi questi master a pagamento devono poter dare di più, altrimenti non ha senso pagare per qualcosa che trovo tranquillamente gratis. Un master mediocre lo trovo ovunque, ad esempio chiamate me, cioè mi sembra evidente. Quindi, che cosa deve dare in più? Io stavo pensando ad alcuni punti. Allora, prima di tutto potremmo dividere il master a pagamento per intrattenimento in due tipi. Io sono ancora, cioè, ho pensato poco effettivamente a questa cosa, è da qualche giorno che mi rozza in testa e quindi magari alcune cose le cambierò in corso d'opera, ma comunque sì, dividiamole in due categorie. Master artista e master artigiano. Poi mi direte sì, nella cultura giapponese artigiano e artista sono la stessa cosa, ok. Master artista, cioè io chiedo di giocare con una persona che mi faccia da master perché mi piace la sua visione del gioco e quindi, diciamo, il nostro gruppo si affida completamente a lui e dice noi vogliamo giocare con Matthew Mercer, ad esempio, ok. Fai tutto tu, noi ti paghiamo e tu gestisci tutto, fai quello che vuoi, donaci un'esperienza. Ottimo. Fighissimo. E quindi in questo caso, in verità, sono cose totalmente soggettive, no? Se ci piace quel master come lavora, come interpreta, come racconta le storie, noi lo paghiamo perché ci piace giocare con lui. Lui può dedicarci tempo perché viene pagato, quindi può magari essere più di un hobby e quindi lo può fare con più gruppi, tutte le sere, ad esempio, eccetera, eccetera, e siamo tutti contenti. Quindi in quel caso, in verità, i limiti sono dati solo dalla nostra immaginazione. Tutto quello che lui ci può offrire in termini di interpretazione, perfetto. Andiamo invece a vedere un altro tipo di master che potrebbe esistere, che è il master artigiano, che è quella che sembra più presente al momento nelle pubblicità di Instagram e di Facebook. Che cosa propone il master artigiano? Propone di essere, diciamo, il master perfetto. Cioè, noi gruppo di cinque persone abbiamo bisogno di un master. Noi diamo le direttive e lui diventa quella cosa lì. Perfettamente, ok? Perfetto, come dire, un muratore. Cioè, chiamo un muratore e gli dico che devi farmi un muro fatto così e lui te lo fa così, perfetto. Senza darsi a inventive strane e applicazioni di teorie improbabili. Ok? Quindi deve essere perfettamente flessibile. Cosa vuol dire perfettamente flessibile? Cosa vuol dire perfettamente flessibile? Vuol dire che se noi gli chiediamo, ad esempio, vogliamo fare un'avventura investigativa con questo sistema di gioco, che duri tot, che abbia queste caratteristiche, lui te le deve poter dare. Ovviamente questa cosa potrebbe avere un costo, che poi vedremo. Oppure potremmo noi scegliere in un pacchetto, ad esempio, ci sono vari pacchetti di esperienza, nelle quali tu paghi un tot e ti dici abbiamo l'avventura prefatta, abbiamo quest'altra avventura investigativa, eccetera, eccetera, eccetera. Perfetto, quindi deve esserci assolutamente questa cosa, perché altrimenti vado a giocare in una fiera, una demo in una fiera, ok? Gratis. Ottengo la stessa cosa. Seconda cosa, che deve poter avere, secondo me, un master artigiano, a pagamento, ovviamente. Deve poter avere la conoscenza del mezzo e dei mezzi. Partiamo dalla conoscenza del mezzo e deve conoscere il gioco di ruolo, cioè deve sapere qual è il punto di forza di ogni gioco di ruolo che propone, e deve appunto poter proporre più tipi di giochi di ruolo, perché alla fine se lo fai di lavoro hai bisogno di non giocare solo quello che magari piace a te come master, ma devi poterti adattare un po', perché altrimenti davvero non lavori più, e quindi devi magari conoscere che per alcune situazioni potrebbe essere più adatto consigliare un certo tipo di approccio, piuttosto che un altro, ovviamente di stuccuterne con il gruppo e poi fare quello che vuole il cliente. Quindi deve conoscere il gioco di ruolo, deve conoscere il ruolo dei giocatori e di ogni cosa all'interno di ogni sistema, e quindi deve studiare, in sostanza. Un'altra cosa che deve sapere, invece, è la conoscenza dei mezzi, cioè deve conoscere meglio dei giocatori, cioè meglio di una persona, di un master normale, di un master base, Roll20, deve conoscere il sito che vuole utilizzare per giocare, o quello che vuole, o se ha le mappe, deve poter avere delle mappe, delle miniature già dipinte, cioè qualcosa di più, mi deve offrire di più di quello che io ho già normalmente. Deve poter, che ne so, se si gioca online, saper usare l'illuminazione dinamica, deve saper usare la musica nel momento corretto, magari deve, non so, può, essendo, facendolo di lavoro, avendo magari più gruppi, poter reinvestire i soldi che ha guadagnato, in, ad esempio, pagare un attore per registrare alcuni video, alcune parti recitate all'interno delle avventure, qualcosa del genere, cioè qualcosa di più mi deve poter dare. Alla fine, questo chiedo, sostanzialmente, quindi queste caratteristiche. Per ora mi vengono in mente queste cose qui, quindi l'adattabilità, la flessibilità, la conoscenza dei mezzi, la conoscenza del mezzo, maggiore di quella dei giocatori. Ecco, un'altra cosa, ad esempio, che ne so, se lui fosse, se il master a pagamento fosse un illustratore, sarebbe ottimo, ovviamente tutto a pagamento, magari con dei prezzi maggiorati, se volete vi posso fare i disegni dei vostri personaggi, le illustrazioni, un momento della campagna particolare, eccetera, eccetera, che lo può fare, c'è qualcosa di più. Niente, fatemi sapere, invece, voi, se avete mai ragionato sull'esistenza di questi master, fatemi sapere, secondo voi, quanto siete disposti a pagare per un master a pagamento, dei vari tipi di cui abbiamo discusso prima, fatemi sapere che altre caratteristiche vi piacerebbe avessero questi tipi di master, e niente, lasciate un commento qua sotto, e ci vediamo alla prossima, ciao.